buongiorno a tutti da Pratizzano Beach oggi sabato 21 settembre vi voglio far vedere le meraviglie del bosco ovvero manite muscarie guardate quante ce ne sono guardate che spettacolo sono veramente fantastiche c'è anche una piccolina lì guardate guardate è incredibile guardate guardate adesso vi sollevo con le foglie qua guardate ce ne sono tantissime il bosco è veramente bellissimo niente buon sabato a tutti ringrazio il mio amico davide buoni che a Pratizzano Beach al bagno a tenere a bada le bagnanti e davide ci vediamo più tardi